In giorni come questo, sognare ad occhi aperti non è solo una possibilità, è quasi un obbligo e il sogno dell'Italia ha un nome ben preciso, campionati europei 2020 di Norvegia, Svezia e Austria Per provare a sbloccare il punteggio, la finta, prima rete della partita, 1-0 Alessio Moretti Seymour, nulla può, schiaccia la palla, verso l'esterno adesso, ma lui è la conclusione, la rete di Davide Muzio L'avevi detto, l'avevi detto Le finte di Duris grandero, look il suo, ci pensa Ebner, intervento eccezionale di Ebner Tutto pronto, para volare vince, che esordio, che esordio, ma te volare vince Cede, poi va a destra dai balli, è un invito per Martina, Sonnerer, delizioso, il pallone Muscatico a destra, è un invito per il tentativo di Girella, non si passa però, non si passa Muscatico a destra, che va in uno contro uno, l'elevazione di scatola, Andrea Parisini, che si coordina, ma questo è un gol incredibile Muscatico a destra, ancora Marrocchi, lo scarico per Stefano Arceri, che vuole questo tiro Rete, importante, quanto coraggio Muscatico a destra, che va in uno contro uno, l'elevazione di scatola, Andrea Parisini, che si coordina, ma questo è un gol incredibile Muscatico a destra, prende l'ascensore, terzo piano, goodbye Zernovic Muscatico a portavuola, si riprende, quello che aveva lasciato un attimo fa La palla larga per Duris, attenzione alla conclusione volare, Nici spaccata, para, ancora un grande intervento da parte dell'estremo difensore azzurro, dopo aver messo dentro la rete in precedenza Attenzione a Marrocchi, adesso il tiro di Pablo Marrocchi, che sale in cattedra, il professor Marrocchi Un doppio incrocio per chiamare in causa Dejan Turkovic Si sblocca anche Dejan Turkovic Non poteva mancare a refer Finisce così però, 26-23 Da questi due punti, da questa grande prestazione Ci ritroviamo domenica, Pozzasca-Vistriza